Grazie per venuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere un'altra mappa con cui io sto facendo le spiega. Saltiamo un attimo. Ok. Qui ci sarà un tasto. E fate, cliccate questo pulsante. Il codice è questo. Adesso vi faccio vedere le spiega. E poi ve lo faccio vedere per il codice. Il codice della mappa è questo. 525501967911